80 anni di fuoco, genio e sregolatezza Mick Jagger, il leone della musica rock che non si è mai fermato, è pronto a festeggiare, secondo i ben informati, con un party che nessuno dimenticherà, negli immensi giardini botanici a Chelsea, nel cuore di Londra Nato il 26 luglio del 43, doveva diventare un economista e invece scelse la ribalta Lui, animale da palcoscenico come nessuno mai Da sei decenni, tra canzoni epocali, concerti infaticabili, vendite milionarie e una vita da stare indiscussa, che travalica ogni divario generazionale Sfrontato e sensuale, selvaggio, si muove come solo lui sa fare, diventando il modello di riferimento, l'icona, il corpo, il volto, l'erotismo Una rock star completa, il frontman sul palco che incanta, ma anche l'autore geniale di pezzi memorabili I Rolling Stones hanno venduto più di 250 milioni di dischi, pubblicato 35 albumi in studio, 24 dal vivo e numerose raccolte Nessuno ha vissuto più di lui, matrimoni e divorzi, figli, otto da quattro donne diverse, nonno e perfino bisnonno Decisamente il più cool del mondo, fidanzate, molte e spesso molto celebri Una leggenda che ha vinto la sfida del tempo, pronto a non tramontare mai Grazie